alzi la mano chi non ha mai sognato di poter fare un bel giro su una supercar per provare l'ebrezza di cosa si prova a stare seduti su una fuori serie da svariate centinaia di migliaia di euro sentire i suoi cavalli che scalpitano sotto il cofano e stare incollati all'asfalto come c'è wing home a meno che non siate un fortunato possessore di ferrari maserati e mustang sono solo delle belle e impossibili ma ora grazie alla prossima edizione di sapori e motori in scena al lido di fano l'8 9 10 giugno grazie a questa iniziativa benefica dell'organizzazione e con il contributo volontario che sarà possibile provare l'emozione di stare a bordo di una supercar nel nostro stand potranno accedere dietro una piccola offerta quello che vorranno insomma buon cuore di chi vorrà fare l'offerta e per un'associazione in beneficenza e faranno un giro con ferrari o magda o lamborghini adesso vediamo cosa cosa ci sarà quel giorno per per questa manifestazione naturalmente insomma ci sono anche auto di una certo spessore d'epoca alle spalle c'è una c'è una splendida mustang una mustang del 65 e ci saremo anche noi con il gruppo stanghisti emiliano romagnoli e quando si parla di beneficenza insomma non ci si può tirare indietro ecco bene naturalmente più si dà e meglio è perché l'impegno ci mettiamo tutto noi però vogliamo realizzare anche qualcosa questa beneficenza